Marta Fernando. Serietà, competenza e professionalità. Dal 1968, Marta Fernando è sinonimo di serietà, competenza e professionalità. Specializzati in noleggio autogru, traslochi industriali e trasporti eccezionali, nazionali e internazionali, con attrezzature uniche in Italia e nel settore, consentono sollevamenti e montaggi fino a 1000 tonnellate e movimentazioni fino a 300 tonnellate in sé muovenza. Oggi il gruppo, insieme a FM Sollevamenti e Manima SRL, conta circa 50 automezzi e 18 dipendenti su un'area di 10.000 m2.